L'utilità dell'essere cittadini che partecipano e che sentono come proprie le cose della collettività, della res pubblica. Nasce anche a Ragusa l'Unipni che è l'associazione che mette insieme tutti coloro che hanno avuto l'alto onore di essere nominati e proclamati ed insigniti del titolo di Cavaliere all'Ordine della Repubblica, al merito della Repubblica Italiana. La nuova presidente di questa nostra associazione provinciale che vuole essere lievito per la società, che vuole essere collaborazione e condivisione, far parte delle problematiche, il Cavaliere Gianna Licitra, che emozione vive in questo momento e come vive questo senso di responsabilità del diventare lievito per la collettività. Beh, è inutile dire che sono molto emozionata, che devo riconoscere, un ulteriore riconoscimento questo, oltre a quello avuto a suo tempo nel lontano 2015 con l'onoreficenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Sono felice perché attraverso, e ne sono pienamente consapevole che ce la faremo, di poter dare qualcosa, di poter quantomeno dare prova di quello che è il vero senso di un'onoreficenza, che non deve essere legata soltanto al servizio. Cioè noi abbiamo avuto dei riconoscimenti per meriti di servizio, ma non è solo questo. Il merito di servizio si deve estrinsecare, si deve concretizzare con quello che è il contributo che noi possiamo fornire per la crescita di una comunità. Questo è il senso che io intendo dare a quello che adesso è il mio operato e attraverso questo incarico adesso devo dare prova e penso di potercela fare perché siamo in tanti. In questo periodo di preparazione per la costituzione di questa sezione ho conosciuto belle persone e ho capito anche, e ne vado fiera perché sono i presupposti per poter iniziare bene, che c'è tanta gente che ha voglia di fare e che vuole dare veramente quel significato che è proprio dell'onorificenza che all'epoca ciascuno è stato confermato.